Ehi, Maggie, ti senti bene? Mi serve un attimo. Non volevo dirtelo, ma devo toglierti la pazienza. I genitori non si fidano che di te. Basta, adesso ce ne andiamo. Servono questi antibiotici adesso! No! In prima visione Italia 1. Acqua, zitta! Chicago Mad. Niente posso, infibrillazione, ambos. La quinta stagione. Possiamo rianimarlo? Sì. Allora, come siamo messi? Giovedì 21 e 20. Grazie a tutti.